La produzione di vini in Lombardia veramente ha dei punti di eccellenza, ma i vini del Consortio di San Colombano, che è l'unica produzione in provincia di Milano, è cresciuta in qualità e quantità tantissimo in questi anni e è un brand che anche in visione di Expo 2015 noi pensiamo di valorizzare sempre più e quindi è qualcosa che naturalmente dà lavoro, assorge in termini di qualità nella realtà di Milano, nella realtà anche al di là del nostro territorio, della nostra provincia, è anche un libro, questo che si chiama Il vino un gesto d'amore, è anche un libro che non solo racconta la storia di queste aziende ma guida l'estimatore del vino proprio ad andare a scegliere capendo quali sono le qualità, i metodi di lavorazione e le caratteristiche del vino che desidera bene.